Sì, mano sul cuore, gesto di colore, sofferenza patriottica. Grazie a tutti. Abbandonano sine qua non le reti pagane e la scive di una vita che non è vita, ma in fondo ognuno di noi è stato creato per il motivo per il quale anche la fede per cui l'amore è nato ed è proprio per quest'amore che noi pensiamo sia in voi presente fino all'eterità. Grazie. 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 Grazie.